Musica Io sono una piettrice autodidatta, fin da piccola ho avuto la passione, infatti ho sempre dipinto, lavorato, in passato ho fatto alcune mostre, poi però ho smesso, però negli ultimi anni avevo proprio il desiderio di approfondire perché capivo che sempre mi mancava qualche cosa e quindi ho preso lezioni private da una maestra, Bagheria, Claudia Clemente, la quale effettivamente mi ha portato a comprendere bene le mie lacune. E infatti sono molto soddisfatta, il mio stile di pittura è l'iperrealismo, praticamente riproduco la realtà per quella che è, cioè sembrano a volte quasi fotografie i miei dipinti. Come potete notare amo dipingere la mia terra, quindi i mare, i nostri monumenti, tutto quello che è la Sicilia. Negli ultimi anni ho iniziato a fare mostre, ho iniziato con Milano, Firenze, Roma, e ora ci sarà l'inaugurazione e il venisaggio di una mostra a Spazio 40, una galleria d'arte di Roma. Come vedete faccio anche ritratti, sia a commissione e solitamente faccio ritratti anche di attori proprio perché nelle mostre non posso portare un ritratto personale, quindi per far capire e vedere porto ritratti in passato ho fatto Totò e altri attori importanti. Ringrazio signora Aliotta che mi sta dando questa bella opportunità di mettere in mostra i miei dipinti, i miei lavori e la mostra resterà qua permanentemente aperta per gli orari di negozio. Ringrazio signora Aliotta che mi sta dando questa bella. Ringrazio signora Aliotta che mi sta dando questa bella... Grazie.